L'amore Lega il padre al figlio, è il loro legame, il loro rapporto, è quell'atmosfera, quella bellezza, quello stare insieme che c'è fra il padre e il figlio. E così sulla terra lo Spirito Santo è l'amore che ci lega. Una madre ha un figlio, gli sposi fra di loro, nella chiesa. Ecco, l'amore è proprio uno degli effetti dello Spirito Santo. Potremmo dire è lo Spirito Santo all'opera. E come conosciamo questa azione dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è amore. E quindi l'amore quando si muove fa qualcosa per gli altri. Quando tu vai a trovare una persona, quando sei a pranzo o fai una festa, porti dei doni. E i doni mettono in evidenza la bellezza di essere insieme. Mettono in evidenza la bellezza delle persone, il loro rapporto, la gioia di stare insieme. E così lo Spirito Santo porta dei doni, sono sette. Quello che vorremmo capire meglio oggi è il dono del consiglio. Consiglio. Sto parola è un po' difficile. Ci richiama la luce. Fa capire. Vieni, ho bisogno di un consiglio, fammi capire. Una delle parole, se andate sul vocabolario, la parola consiglio è un colloquio. Il consiglio per fare prendere una decisione. Ecco, un colloquio, quando ci si mette insieme per prendere una decisione. Allora potremmo dire che lo Spirito Santo è il colloquio che c'è in Dio, fra il padre e il figlio. Il colloquio che risale all'inizio dei tempi, quando a un certo punto Dio ha deciso di farsi uomo, prima di creare il mondo e poi di farsi uomo. Ecco, questo consiglio, questo progetto, questa decisione. E poi il colloquio, questa decisione che c'è sulla terra, fra noi. Non so come se succede a voi. Io quando ho bisogno di fare una cosa, ci penso su. E poi chiamo un amico, qualcuno che mi dico, che mi faccia da specchio. Gli dico, senti, fammi da specchio, io ti dico quello che vorrei fare. E così tu mi dici, ascoltandoti, mi fai capire, mi dici quello che, io capisco quello che devo fare. Ecco così. Lo Spirito Santo è proprio questo specchio che c'è o dentro la nostra anima. Così capisco la mia storia, la mia vita, che cosa devo fare nella vita. Devo sposarmi, devo diventare prete, devo diventare missionario. Cosa devo fare della mia vita, ecco, dentro di me. E poi questo colloquio fuori di noi, in famiglia, nella comunità. Come dire, come possiamo aiutare la Chiesa, per esempio, a essere quello che deve essere. A portare la fraternità, la fratellanza a tutti gli uomini. Così chiediamo insieme questo dono dello Spirito Santo, che ci aiuti a essere colloquio dentro di noi, con ciascuno di noi. e ad essere colloquio fra di noi, per essere quella Chiesa, quella bellezza, quell'armonia fra le persone.